A Francaviglia si è superato il numero dei casi totali registrati in primavera, fermo a quota 71. Sono 80 infatti i contagi della seconda ondata Covid-19. Tra questi 54 sono gli attivi mentre 26 persone vengono considerate guarite dopo aver ricevuto il doppio tampone negativo. Il sindaco di Francaviglia Antonio Luciani ha ripreso la linea diretta di informazione con la popolazione tramite social, cosa che era già accaduta durante il lockdown di marzo ed aprile. Aperto il centro operativo comunale dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18 reperibile ai numeri 085 49 20 292 o 085 49 20 249. Insieme a questi numeri è stato istituito anche un contatto diretto con la protezione civile al numero 348 52 60 370 disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Noi a marzo abbiamo iniziato a vivere la sensazione con la situazione con i numeri con i tamponi in una fase già avanzata del della diffusione del coronavirus. Tant'è vero che se vi ricordate si parlava dei famosi asintomatici che dovevano essere 100 mila un milione stavano tra noi e non erano stati individuati perché non erano stati fatti i tamponi. Oggi invece stiamo prendendo proprio quella platea stiamo prendendo proprio quella massa di asintomatici che se non arrestiamo poi comporterà l'aggravarsi della situazione e quindi comporterà che un'altra volta le terapie intensive si si riempiranno gli ospedali non ce la faranno a curare tutti. Il sindaco di Francavilla inoltre assicura che i servizi del comune almeno quelli essenziali proseguiranno senza alcun problema ed annuncia la possibilità di fare tamponi su base volontaria per il personale comunale. Sì noi vogliamo fare il nostro e quindi nonostante i protocolli non ce lo impongano abbiamo disposto proprio in mattinata la possibilità per tutti i dipendenti comunali di fare un tampone un tampone diciamo privato non tramite ASL per vedere appunto lo stato di salute dei nostri impiegati e soprattutto per impedire che il virus si possa diffondere tra noi. È vero che il governo con i suoi provvedimenti ci ha dato lo smart working per il 75 per cento quindi la possibilità di lavoro a casa ma è anche vero che ci sono servizi essenziali che sono irrinunciabili.